I tram abbrustolivano le rotaie, le automobili saettavano e dalle gomme chiodate mandavano stridori e scintille. Il pavimento d'asfalto era ammollito dal calore. Incontri di persone, confusione, giravolte, scartamenti, spinte, urtoni, cadute di bastoni. Nei fasci di luce che fuggivano urlando dalle botteghe brillavano i diamanti delle cocotte che passavano con passo serpente, dimenando le natiche che migliaia di mani avevano toccato, palpato e che molte bocche vomitanti il pus della lascivia avevano baciato. Nei parallelepipedi d'ombra la confusione era enorme, le spinte avevano più pressione e gli urtoni più forza.